Giornata fantastica, storica, per tante persone con disabilità e le loro famiglie. Emozionante per Vincenzo, essere ad Assisi, dove è stato invitato nell'ambito della prima edizione del G7 Inclusione e Disabilità. Vincenzo è un giovane fornaio di Eboli, impegnato a dar corpo ad un'iniziativa, il Forno di Vincenzo, nata per creare un borgo sociale, per costruire un percorso per il durante e il dopo di noi, per i ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale o in condizioni di fragilità. Quello di Assisi è un altro tassello che si aggiunge ad un percorso che ha costruito una fitta rete di relazioni umane basate sulla tutela della biodiversità. Il Forno di Vincenzo, Forno sociale di comunità, è un modello di protagonismo attivo e autodeterminazione delle persone con disabilità, che ha per protagonista Vincenzo, un giovane con disabilità intellettiva, ma che sa sfornare un pane buono, sano, etico e ricco di significato. Uno dei tanti esempi arrivati ad Assisi che ispirerà l'attesa carta di Solfagnano, la dichiarazione finale che rappresenterà gli impegni dei ministri e dei paesi partecipanti al G7, ispirati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e che giovedì 17 ottobre verrà poi consegnata a Papa Francesco da una delegazione dei ministri partecipanti.